Siamo molto contenti perché l'abbiamo sbloccata questa situazione che andava avanti da circa 40 anni, proprio noi come città metropolitana e io in qualità di sindaco della città metropolitana. Poi c'è un grande lavoro di squadra come si può vedere, tutto in house, quindi tutto ufficio tecnico della città metropolitana, l'impresa che sta lavorando molto bene ed è credo la più importante, imponente ed efficace opera pubblica sull'edilizia scolastica in città sicuramente dal 1980. Qua verranno tre scuole, Labriola, Rossini e Boccioni, palestre, impiantistica, laboratori, cucine, sale di intrattenimento, percorsi didattici, luoghi esterni, veramente imponente, contiamo nel corso dell'anno 2017 di portare a compimento questa grande opera pubblica. Siamo molto soddisfatti perché nell'ambito di questa azione poi troveremo sistemazione anche all'Augusto Console in modo efficace qui in zona, in modo da chiudere tutte le problematiche che riguardavano questi plessi scolastici. Siamo davvero molto soddisfatti, grande lavoro di squadra, volontà istituzionale, volontà politica e un segnale fortissimo per le scuole della decima municipalità e della nostra città. Grazie a tutti!